Sì, grazie Presidente. Allora, sull'attività di manutenzione Atac sta facendo un grandissimo lavoro, peraltro nelle assunzioni che vengono effettuate adesso ci saranno anche addetti alle officine, che è l'elemento chiave per far sì che la manutenzione possa essere ottimizzata. Di recente abbiamo fatto anche una commissione importante proprio nelle depositi officine di Atac. Lei stesso lo ha correttamente citato all'interno del suo intervento per quanto riguarda il fenomeno gravissimo degli incendi. L'attività che viene svolta da Atac è di un controllo attento per far sì che questo non si verifichi, però tenga conto che il tutto accade sicuramente perché gli autobus hanno una certa età. Alcuni hanno 15 anni e come lei ha correttamente indicato nel suo intervento il trend di incendi degli autobus è in forte diminuzione proprio per l'attività che viene effettuata da parte di Atac. Questo non ci soddisfa, sia chiaro, perché bisogna fare assolutamente di più da questo punto di vista, ma sono la metà dell'anno scorso e dunque quello che chiediamo ad Atac sono degli interventi ancora più precisi e puntuali perché il fenomeno non si verifichi. Ed è per questo motivo che noi ci asterremo a questo ordine del giorno. Grazie.